cari figli oggi vi invito alla vita nuova non importa quanti anni abbiate aprite il vostro cuore a gesù che vi trasformerà in questo tempo di grazia e voi come la natura nascerete alla vita nuova nell'amore di dio e aprirete il vostro cuore al cielo e alle cose celesti io sono ancora con voi perché dio me lo ha permesso per amore verso di voi grazie per aver risposto alla mia chiamata ringraziamo la madonna per essere ancora con noi e la santissima trinità che ci permette questa presenza meravigliosa per amore nostro io vi saluto e vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore